Ciao ragazzi e ragazze, bentornati e bentornate al bar basso, ma quanto diavolo conta la mentalità europea? Milan-Napoli 1-0, questo video non piacerà agli interisti, forse non avrei voluto farlo, ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Milan batte Napoli 1-0, sì, paratone di Mignan, sì, non c'è Rojimen, sì, 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 lo batte in campionato 4-0 e c'era un precedente, ma la realtà è che il Milan, il club Milan ha una componente europea, Champions League, di competizioni, di competere ad alto livello europeo importante, tant'è che il Milan in realtà di bruttissime figure in Europa è difficile ricordarsi che le abbia fatte. Perché vi dico questo? Perché quando parliamo di mentalità anche dei nostri, dell'Inter, di mentalità della Juve, delle finali, di mentalità delle squadre, delle mentalità che può dare un allenatore, per esempio come Murigno alla Roma, è fondamentale, cioè non esiste al mondo che noi ignoriamo questo. Quindi quando gli interisti dicono, ah, speriamo di incontrare il Milan, i derby, non vi augurate di incontrare il Milan, perché se dovessimo passare noi è sicuramente più affrontabile il Napoli. Non esiste al mondo che cominciamo a temere il fatto che il Milan possa, come dire, essere bruciato dal Napoli, perché il Napoli è troppo forte. Ragazzi, la mentalità europea del Milan non si commenta e si tratta di mentalità. Una mentalità che non è Ibrahimovic, non è niente, è un club che la dà. Una mentalità è come quando si dice che l'Inter non comunica bene, ecco, l'Inter non comunica bene perché di fatto è sempre stato così. Allo stesso modo il Milan è un club che ha il DNA europeo, quindi non vi augurate di prendere il Milan perché non è giusto. Per il resto, complimenti al Milan. Il Milan che credo veramente, veramente, se passa, e non lo dico per scaramanzia, possa arrivare in maniera assolutamente fortuita, ma d'altra parte come noi, anche a giocarsi la finale. Se poi saremo noi sarò contenta, ma di fatto è così. Quindi, morale della favola, il punto è che forse anche da questo andrebbe un pochino imparato. Non è un caso se ti porti a casa 7 Champions League. Non ho intenzione di fare un video dove parlo di quanto il Milan abbia sempre avuto la mentalità europea. Volevo solo dirvi, è un dato di fatto. Guardate i fatti, magari poi viene spazzata via dal Napoli la prossima partita, ma di fatto questo adesso è il risultato. E forse una seria riflessione va fatta sul cammino di tutte le italiane. Stop whining. Stop whining. Stop whining. Stop whining.